Vi faccio vedere il mio ufficio. È abbastanza grande, ci sono dei macchinari un po' strani, però a me servono per fare degli esperimenti. Ecco, vi faccio un po' una panoramica dell'ufficio. C'è un tetto molto alto, dove si vede poi la luna, e qui penso a cosa dire nei prossimi video. Così vi ho fatto fare tutta una panoramica a 360 gradi. Arrivederci a tutti.